Il senso reale, guardate l'incurio alla sporcizia e lo schifo e le migliaia di quelle bottiglie di carte e di schifezza che esiste per strada, la puzza che ci sta in questa strada è una cosa letteralmente vergognosa, è vergognoso, questo è il grado di civiltà dei giovani di oggi, è una discarica a cielo aperto, migliaia di bottiglie, carte, bicchieri, piatti di carta, c'è di tutto per non parlare di questi disonorevoli contenitori di immondizia, su Youtube la dobbiamo mandare, questo è Napoli, guarda ma è a perdita d'occhio, su internet la metto, è una cosa veramente vergognosa, guardate, guardate, guardate gli spazzini napoletani come fanno il loro dovere la mattina, alle 6 dovrebbero, guardate, guardate che cos'è questa panchina, è una cosa inimmaginabile, noi ci permettiamo, guardate proprio dove ti giri, dove ti giri, è una cosa vergognosa, guardate, 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 è veramente una vergogna, è una vergogna, guarda qua, guarda, 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 ma che schifo, guardate, 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 guardate